allora salve a tutti e tanto che non metto qualche video dei miei ritrovamenti e signori siamo febbraio e cos'è oggi giovedì 14 13 bene signori iniziamo la stagione dei dormienti e ecco qua ho per voi il primo bellissimo fungo dormiente da farvi vedere guardate che bellezza eh mamma mia bello guardate che bellezza signori guardate come è guardate che bellezza è questo fungo mamma mia ragazzi primo dormiente della stagione eh bellissimo abbiamo anche un fratellino qui eh guardate che bellezza guardate che bellezza signori guardate che bellezza bello 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 bello